Come promuovere la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica? Se ne è discusso a Palazzo Lascaris in un incontro organizzato dai governatori dei distretti Lions di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sulla legge che promuove la cittadinanza umanitaria attiva cioè l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo e la collaborazione fra cittadini e pubblica amministrazione per una organizzazione solidale della comunità. Cittadinanza umanitaria attiva, una legge regionale fortemente voluta dai Lions ma anche dal Consiglio regionale del Piemonte? Direi di sì, approvata anche in tempi brevi, credo la testimonianza da sempre dell'attività dei Lions sui principi della sussidiarietà soprattutto in un periodo così complicato per la politica l'iniziativa dei Lions potrà sicuramente essere molto utile per cercare di propugnare le iniziative che partono dal basso per essere poi eventualmente approvate nei consigli regionali piuttosto che nei consigli comunali. Comunque oggi ampia soddisfazione per questo momento e credo anche l'occasione per ringraziare i Lions per i service che fanno sia a livello internazionale che a livello nazionale che a livello distrettuale. Grazie a tutti!